Ho un ricordo indelebile di lui, eravamo a cena insieme e io gli parlai di jazz e mi chiesi se fosse più piacevole suonarlo o ascoltarlo. Il mio ricordo che mi lega a Orazio è come quello di tantissimi che ho avuto la fortuna di prendere delle lezioni di chitarra da lui, poi le strade si sono divise, ho fatto tutt'altro, ma poi mi sono ritrovato con Orazio Di Pietro in un mondo, quello della musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.